Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video sul mio canale C-Trading. Ieri non sono riuscito a fare l'aggiornamento, purtroppo sono giorni abbastanza concitati per me per cui ho molta attività in ballo e non riesco sempre a fare degli aggiornamenti abbastanza continui. Tuttavia per chi mi segue su Vettoro riesco a mettere quantomeno dei post giornalieri dove parliamo un po' di quella che è la situazione dei mercati. E vediamo subito la situazione dei mercati. Oggi sono usciti i dati delle nuove richieste di disoccupazione che sono più o meno in linea a quelle della settimana scorsa, leggermente di più. Un milione e mezzo rispetto a un milione e trecentomila delle attese che comunque in linea con quelle della settimana precedente che erano comunque intorno a un milione e mezzo. L'indice Fed di Filadelfia, l'indice sulla fiducia diciamo in qualche modo fa un bel balzo in avanti rispetto a un sentiment a gara addirittura negativo del meno 23 punti e è arrivato a più 27 se non ricordo male. Questo insomma ha lasciato abbastanza ben sperare. Detto questo i mercati sono abbastanza contrastati. Stanotte l'Asia ha chiuso in maniera positiva, tranne il Giappone. Poi l'Europa si sta muovendo, anzi appena chiuso, si è mossa in territorio abbastanza piatto, un po' inattivo, un po' in passivo. Saliva l'Italia, scendeva la Spagna, la Germania ha continuato a galleggiare intorno allo zero per più o meno quasi tutto il giorno. Guardiamo anche ovviamente i mercati americani che hanno aperto dopo i dati rilasciati prima dell'apertura del mercato in maniera abbastanza contrastata. Anche Wall Street non sa bene che strada prendere. Ieri la Fed Pavel ha fatto un discorso al congresso, un'audizione al congresso in cui ha continuato a ribadire la linea della Fed che continueranno comunque a dare in qualche modo aiuto alle famiglie e alle imprese che ne faranno richiesta. Andiamo a vedere un attimino cosa sta succedendo. Adesso vediamo che per esempio Shopify è una di quelle aziende che in questo momento sta continuando a crescere in maniera abbastanza interessante. Guardate, più 5,76 oggi. Shopify, come ben sapete, produce software per l'e-commerce, in qualche modo, quindi è una di quelle società che della pandemia ha beneficiato ma è comunque una società che è sempre cresciuta in maniera molto costante e poi lo andremo a vedere anche un attimino nel grafico. E andiamo a vederci cosa sta facendo l'SP500. Se riusciamo... eccolo qua, perfetto. Vediamo un po' come stanno andando i mercati americani. Oggi anche la connessione internet ha qualche problema. Allora, vediamo un po'. Allora, un'occhiata veloce. Non benissimo Google, non bene Facebook, un pochino meglio Apple. Se sentite dei rumori in sottofondo sono i miei figli che stanno cercando di mettere su un'orchestra, credo. Bene, abbastanza bene Amazon. Bene Microsoft che continua a crescere. 196 dollari, è uno dei migliori, mentre qua rioni pop-up di TradingView. Bene Microsoft, bene Apple. Quindi in questo momento va abbastanza bene Amazon. Bene anche Procter & Gameball. Quindi si stanno muovendo in maniera abbastanza bene. Vediamo un po'. Bene Oracle, più 271. Bene Adobe, 1,25. In questo momento scendono la parte dei semiconduttori. Come potete vedere, sono tutti abbastanza allineati in una piccola discesa. Quindi male Intel, male, non malissimo, AMD praticamente piatto. meno 0,37 per Nvidia. Qualcomm, più 0,21, leggermente positivo. Molto bene Broadcom, più 1,18. Quindi andiamo a vedere cosa sta succedendo sul Nasdaq. Innanzitutto, come vedete, una candela, primo momento, di forte indecisione. I mercati sono molto, molto piatti. Ma perché? Perché innanzitutto ci sono i dati sulla pandemia che non stanno migliorando, che in alcuni casi addirittura suscitano preoccupazione. Guarda negli Stati Uniti, in Brasile dove c'è veramente il disastro e i numeri non sono certamente quelli che vengono dichiarati. Qualche focolaio di ritorno in Cina e questo preoccupa abbastanza, soprattutto le autorità cinesi. E quindi, diciamo, tutto si incastra con le varie aperture che i vari Stati stanno mettendo in campo. Quindi, soprattutto per quanto ci riguarda più da vicino, noi italiani stiamo cercando di tornare a una normalità in qualche modo, soprattutto cercando di far riviaggiare il turismo in questo periodo che per l'Italia è fondamentale. E poi ci sono tutta una serie di cose da capire che riguarderanno soprattutto a partire da settembre tutte le attività legate al mondo scolastico e non solo. Però, detto questo, andiamo a vedere cosa succede sui mercati. Quindi abbiamo visto che il Nasdaq in questo momento è leggermente negativo, segna a meno 0,11, a un certo punto era andato anche sopra i 10.000, poi tornato indietro, come potete vedere, c'è molta, molta indecisione da questo punto di vista. Poi, andiamo a vedere un po' qualche coppia. Allora, la coppia è interessante. Euro-Dollaro. Allora, siamo sul time frame a 15 minuti. Togliamo un attimino il time frame a 15 minuti e andiamo sul 4 ore. Perché sul 4 ore cosa succede? Allora, sul 4 ore, così come vi avevo fatto vedere ieri e l'altro giorno, anche per Euro-Sterlina e poi lo andremo a vedere un attimo più da vicino, c'è una cosa da notare. C'è un altro testa e spalle. Questa volta il testa e spalle, però, non è quello, diciamo, rovesciato, ma è quello normale. Quindi, e questo potrebbe essere un testa e spalle di ribassista. Perché? Perché in questo momento, come potete vedere, c'è questa neckline che potrebbe essere toccata. Guardate come ci siamo andati vicini qua, oggi, con, andando addirittura un pochino sotto, andando un pochino sotto i, gli 1,20, non ci siamo arrivati, ancora no. Però, io mi sono messo un allarme qua, nel frattempo, ho rischiato un ingresso, diciamo, un pochino più alto, perché la mia idea è che, se rompe quest'area qua, si continuerà a scendere verso questi livelli qua, intorno agli 1,10. E quindi staremo a vedere. Scusate, ho venuto delle interruzioni, ho delle persone che passano, e mi trovo un attimo spiazzato. Mentre vi faccio vedere, Euro, GBP, che come vi avevo, scusate, come vi avevo anticipato, c'era la possibilità, che prendesse la strada, che io mi aspettavo, basandomi su, diciamo, su questo test e spalle, rovesciato, che è in realtà, una continuazione del trend rialzista, e quindi che prendesse la strada, da qui in avanti, e potesse continuare a salire, verso questo obiettivo qua, che sono sopra i 0,91, tra i 0,91, certo se va ancora più in alto, tanto di guadagnato, per il momento diciamo, che la nostra idea, vedete che è rimbalzato esattamente qui, sulla neckline, e poi è rimbalzato anche qua, su questa trend line dinamica, che vi faccio vedere, picciolisco un pochino, perché così non si legge niente, eccola qua, vedete, c'è questa trend line, che ha toccato nel corso dei vari mesi, su cui poi ha insistito diverse volte, e che ha formato, con la neckline di questo testa e spalle, un triangolo, vedete questo bellissimo triangolo, che solitamente, si può trasformare, in un triangolo rialzista, o ribassista, secondo se viene rotto in alto, o in basso, in questo caso, è stato rotto, verso l'alto, e quindi, la speranza che continui il suo trend al rialzo, ci sta tutto. Poi, parliamo anche, di un'altra coppia, che stiamo guardando, che è, CHF, eccola qua, che stiamo monitorando, vedete, è scesa un pochino, il mio allarme, ce l'ho qua, a questo siamo su 4 ore, andiamo sul giornaliero, il mio allarme ce l'ho qua, vedete, dove c'è esattamente la media a 50 periodi, voglio vedere se scende ancora, perché da qui potrei tentare un ingresso verso l'alto, e poi, quindi abbiamo visto Euro GBP, e adesso andiamo a vederci, invece, USDCHF, eccolo qua, perché? Perché io qua ho un'idea rialzista, ho un'idea rialzista, che al momento, oggi si sta leggermente consolidando, e si sta leggermente, diciamo, avverando, perché sono entrato qui sotto, e adesso sto aspettando che possa finalmente rompere queste, le medie, queste veloci, che poi vedete qui, e possa puntare verso la media a 21 periodi, e poi magari andare anche un pochino più in alto, sono fiducioso che nei confronti del franco, il dollaro potrebbe soffrire ancora un pochino, staremo a vedere, se non soffre, vedremo, andremo a chiudere, uno stop loss abbastanza corto qui, però, diciamo che le discese da cui proviene questa coppia, è storica, a parte questo minimo toccato qua, poi da cui si è ripresa, ha sempre toccato valori molto più alti di questi qua, e quindi io sto aspettando che possa tornare su valori un pochino più congeniali, diciamo su una media un pochino più alta, poi, poi andiamo a vedere quindi, cosa sta facendo Shopify, quindi abbiamo visto che, sta salendo del 5%, e guardate qua che candelone che ne ha fatto Shopify, e con questo candelone, siamo qui, studiamo sul giornaliero, guardate come stiamo ancora una volta salendo, chi ha investito in questa azienda, diciamo in tempi non sospetti, magari non, già nel 2019, si sta portando a casa veramente dei guadagni mostruosi, mostruosi veramente, è un'azienda veramente, veramente del rendimento incredibile, poi guardiamo anche cosa sta facendo Pinterest, perché su Pinterest sono entrato qualche giorno fa, sono entrato qualche giorno fa, perché? perché sono andato a giocarmi quest'altro testa e spalle, a giocarmi sembra quasi una scommessa, ma in effetti un po' il trading è una scommessa, allora cosa c'è? questo c'era questo testa e spalle, vedete, è invertito, quindi nel caso di, diciamo, continuazione, di rimbalzo su questa neccata, la neckline potrebbe riportarsi verso l'alto, e in effetti così ha fatto, guardate, Pinterest è andato a toccare, ve la disegno qua, ve la disegno qua, eccola qua la neckline, eccola qua, è andato a sfiorare di qua la neckline, è andato a toccare la media 21 periodi, e dopodiché ha continuato a ripartire verso l'alto, e adesso vedete che sta risalendo, è un'azienda su cui a me non entusiasma particolarmente, ma da un punto di vista tecnico, ha ancora margine per crescere, perché vedete, viene da, ha debuttato, non tantissimo tempo fa, l'ha debuttato l'anno scorso, quindi ha sofferto abbastanza il debutto nel mercato, però ci sono le possibilità che possa salire un pochino, io magari l'aspetto un pochino più in alto, ma non mi dispiacerebbe se arrivasse verso i 27, a toccare questi livelli qua, e poi staremo a vedere, in teoria in realtà, se dovessi seguire, diciamo, la teoria e la regola dei testa e spalle, dovrei prendere il mio test, la mia testa, tracciare una riga fino alla neckline, ok, fino a qua, prendere questa riga, posizionarla sul punto di rottura, ok, supponiamo che sia questo, e impostare il mio take profit più o meno a questo livello qua, quindi intorno ai 35 dollari, che è veramente molto molto in alto, staremo a vedere, per il momento io mi accontento di vedere un primo take profit intorno ai 27, e poi chissà, vedremo se ci sarà la possibilità di lasciar correre le posizioni, lo farò sicuramente, quindi facciamo una cosa, questo ce lo segniamo giusto per livello così didattico, così almeno ce lo ricordiamo, che stava lì, e passiamo a qualcos'altro, andiamo a vedere l'oro, l'oro che rimane dentro questo canale, continua a assolutamente non venirne fuori da questo canale, e resta dentro, incastrato tra i 1,730 e 1,7, vedete, addirittura qui siamo tra 1,740, e qui siamo tra 1,680 e 1,775, quindi anche l'oro c'è molta molta indecisione, però finché resta su questo canale e continua a caricarsi, ci sono buone possibilità che possa tornare a salire, come avevo detto qualche settimana fa, sul lungo periodo. Guardiamo il petrolio, qui siamo sul contratto di luglio, ancora abbastanza stabile, siamo intorno ai 38 dollari, 38,50, quindi come potete vedere, sta continuando per il momento ad appoggiarsi sulla media 21 periodi, quindi anche qua il petrolio per il momento, diciamo, non ha grosse oscillazioni. Un'occhiata veloce la diamo al bitcoin, che continua anche lui nel suo canale orizzontale, che sta tra i 10.000 e i 8.000 e i 6, più o meno 8.500, quindi, e vedete, continua a oscillare anche lui dentro questo canale, però guardate che qui sta per succedere qualcosa, perché la media a 50 periodi sta per incrociare le medie veloci, esattamente quella a 21 periodi, per cui tra domani e weekend potremo assistere a qualcosa di interessante. Potrebbe essere un ribasso, in realtà, per come si sta comportando, però non è detto che possa sentire di nuovo questo incrocio e spingersi verso l'alto. Vedremo nei prossimi giorni. Diamo invece un'occhiata a un po' di thread spreading. Perché? Spread trading. Cosa ho detto? Ho detto thread spreading? Mamma mia, ragazzi, oggi sono veramente stanco. A un po' di spread trading, perché? Allora, andiamo a vedere. Io ho alcune posizioni aperte. Allora, questi sono... Questo è il... Allora, questo è il CL, questo è l'olio, scusate, il petrolio. Oggi sono un po' andato. Esatto, il petrolio. Che questi sono, allora, questi sono i contratti di dicembre 2020 e gennaio. Quindi due gambe molto vicine. Questo è un contratto in vendita. Siamo già dentro la stagionalità. Io sono entrato più o meno a questi livelli qua. E in questo momento, diciamo, sono in perdita perché sta tornando su. Non mi preoccupa più di tanto. Lo aspetto... Ho già posizionato degli ordini di raggiungere altri contratti. Nel caso arrivi ancora leggermente più in alto. Perché poi mi aspetto che sul lungo periodo... Vedete, questo spread è molto lungo. E questa è già stata una stagionalità molto lunga. Per cui mi aspetto che sul lungo periodo possa seguire comunque un po' la sua stagionalità. Poi andiamo a vedere quest'altro spread. Siamo sulla soia. Allora, qui abbiamo la gamba di settembre con quella di dicembre. Guardate qua. Qua sono entrato leggerissimamente prima della stagionalità. e il prezzo mi sta girando contro. Ed in questo momento siamo ad un livello abbastanza alto. Anche troppo alto. Per cui, qui ho già posizionato un altro ordine per entrare con un contratto nel caso salga ancora di più prima che possa scendere di nuovo. Sperando che segua la stagionalità. Perché vedete che in questo momento comunque ha sempre seguito abbastanza bene la stagionalità. Quindi da qui mi aspetto che possa salire ancora un pochino. Qui semmai entrerò con un altro contratto. Dopodiché aspetterò che segua la stagionalità. Che altro dire? Qui siamo sul cacao. Il cacao non siamo ancora dentro la stagionalità. Questo è il cacao. È la gamba di settembre con dicembre. Qui una stagionalità ancora abbastanza corta. Siamo ancora fuori. Non sono entrato perché non sono ancora convinto. Qua ci sono ancora dei livelli di prezzo che si possono toccare. Per cui staremo a vedere se effettivamente si andrà un pochino più in alto. Allora. Per il momento diciamo che è tutto. Non ho molto altro da dirvi. Questo KC. Non so perché ce l'ho aperto. Ah. Forse stavo valutando anche qua un ingresso. Perché non mi piace questo tipo di stagionalità che sta facendo. quindi ne starò un pochino fuori. Allora. Come vi dicevo. Per il momento diciamo è tutto. Torniamo sul nostro grafico del Nasdaq. Spero che questo video vi sia stato in qualche modo aiuto. Scusate la confusione. Scusate se sono stato un po' slegato. Ho avuto un po' di disturbi esterni. E quindi come sempre se vi piacciono i miei video mettete un like. lasciate dei commenti se volete iscrivervi al canale fatelo e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo al prossimo video e ai prossimi aggiornamenti. Come sempre stay tuned finger crossed Ciao a tutti